Buongiorno a tutti da Dizzera Malimpasta. Come vedete non ho né la cuffia né il crembiule. Oggi facciamo un'altra domenica natalizia nel mio paese e nel corso del mio paese, come ho fatto domenica scorsa. Allora, voglio fare questo video nuovamente perché come ho detto voglio coinvolgervi in tutto quello che faccio. Questo video ora lo continueremo in via Brindisi, che sarebbe la via che vi ho detto, con il nostro stand e vi faremo vedere la via pure come addobbata. Ok, quindi ci vediamo dopo e tante belle cose. Continuiamo questa bella serata facendovi vedere nuovamente il mio stand e facciamo vedere anche tutta la via. e cogliamo l'occasione per farvi vedere, guardate, questa è la nostra torta nonna di Tina, quella che vi ho fatto tempo fa sui nostri video. E ho fatto ancora dei biscotti perché sono veramente andati a ruba. E poi già che festeggiamo con una spumante. Allora, puoi vedere un po' Davide la nostra via qua vicino come è addobbato? Perché stasera è più addobbato del solito, eh? Vedete? Stiamo facendo vedere una piccola parte perché tutta la via è fatta in questo modo, tutta addobbata. Ciao, Romagna. Allora, che dire? Magari faremo un altro piccolo video prima di concludere questa serata. Io sono contenta di farvi vedere tutto ciò che faccio perché lo sapete che ci tengo tantissimo e ci vediamo dopo con questo bello stand. Guardate, sono veramente contenta, specialmente che in questo video oggi c'è la mia nonna di Tina. Dedico ancora una volta questa serata a lei. Vi do appuntamento a più tardi. Ciao. Allora, abbiamo aspettato per farvi vedere perché tutta la via è... Guardate, Romagna, farvi vedere un po', alza il telefono. Tutta la via è piena di queste stelle filanzi. Fai vedere, mettiti un po' in centro della via. Mettiti, vai, vai. Allora, io volevo farvi vedere quanto è bella questa atmosfera stasera. Spero di avervi fatto compagnia con questa bellissima serata. Io vi saluto e facciamo l'ultima garellata sulle cose che ho fatto. Per chi volesse comprare il libro, ancora ce l'ho delle copie e ve lo mando la quantifica. Allora io vi ringrazio. C'è la rena di vostra camera. Buonasera e buona festa. Buon Natale, buone feste. Allora, ecco Davide. Allora, io vi saluto e ci vediamo domani per la prossima videovisita. Ciao a tutti per il strano male in pasta. Ciao. Ciao. Buon Natale.